Un'autovettura percorreva contro mano Viale Conte Testa Secca. La segnalazione arriva domenica pomeriggio nella sala operativa della questura di Caltanissetta da parte di un poliziotto libero dal servizio. Lo stesso nel contempo avrebbe proceduto a bloccare la vettura e il conducente sarebbe stato identificato dall'equipaggio della volante di zona giunta sul posto. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'auto era stata rubata da poco in un comune dell'Ennese. All'uomo sottoposta perquisizione personale è stato sequestrato un coltello di genere vietato e una volta condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia sarebbe risultato positivo all'alcol test. I poliziotti dunque della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica il sessantenne per furto di autovetture e porto di coltello. Per l'uomo combinate anche diverse sanzioni amministrative per violazione al codice della strada quali guida sotto l'influenza dell'alcol, guida senza patente e circolazione contro mano. Mentre il legittimo proprietario del mezzo, che aveva presentato denuncia di furto presso la stazione Carabinieri del luogo di residenza, ha riavuto la propria auto.